io ragazzi lo continuo a sostenere ma christian andando avanti riesce ogni volta a convincermi maggiormente siamo arrivati alla terza e alla quarta puntata della seconda stagione che sta andando in onda su sky ma che è reperibile anche su nao e come al solito adesso ne parlerò con spoiler quindi nel caso non aveste visto le puntate recuperate ve le poi tornate ad ascoltarmi tutti e due gli episodi tornano ad essere diretti da stefano lodovichi e continua questa grande sfida fra bene e male ma dove risiederà il bene e dove il male perché noi spettatori continuiamo a interrogarci questi sette vizi capitali questo matteo claudio santa maria che è sia manipolatore ma al contempo manipolato da un personaggio molto enigmatico carismatico la nera interpretata da laura morante si parla di un profeta del male che dovrebbe essere christian eppure christian edoardo pesce sta tentando di fare il bene per città palazzo sono due puntate queste dove torna anche molta ironia se nelle prime due puntate eravamo andati incontro a più epicità e dramma questa volta torna anche la verve di edoardo pesce accompagnato da silvia d'amico ma anche quando pensiamo a gabriel montesi o al personaggio di stefanuccio prima di quell'epilogo molto inaspettato e tragico sul finire della terza puntata ci sono vari momenti in cui ci divertiamo ma in marocco c'è il mare mar occo questa era una battuta che facevo alle medie non mi aspettavo di risentirla in christian però la musica è sempre importante oro dopo l'isola che non c'è ma si canta anche il triangolo no non l'avevo considerato di renato zero insomma c'è questa trasferta in marocco quindi christian diventa anche una serie on the road perché christian stesso dovrebbe curare questo malavitoso questo mafioso perché il figlio di questo tizio in fin di vita ha promesso 5 milioni di euro che servirebbero per far sì che città palazzo possa risorgere dalle ceneri basta droga basta spaccio basta delinquenza e quindi si pensa che si possa dar nuova linfa si va in marocco ma christian si tira indietro ha dei dubbi si fa degli scrupoli non lo vuole salvare perché non se lo merita e quindi tutti torneranno a casa senza aver fatto niente allo stesso tempo si riesce comunque a guadagnare dei soldi perché come gesù moltiplicava i pani ai pesci stavolta christian moltiplica dell'oro dell'argenteria dei gioielli avendone sempre più ecco che si crea questa nuova vita città palazzo dove non esiste più la moneta per come la conosciamo ma le fisce come se fosse una grande partita di poker e come quando si va al concerto di giovanotti al giova beach party tu paghi per avere questi queste fisce insomma e tu le usi in questo evento per tutta la sera per mangiare per insomma fare quello che vuoi come se non esistessero gli euro lì quindi a città palazzo si crea una nuova vita passano dei mesi ed effettivamente le persone stanno bene le persone sono tornate finalmente a sorridere al contempo c'è chi non è soddisfatto l'avarizia porta a rubare sette vizi capitali e chi è che indirizza le persone verso il furto chi è che indirizza le persone verso il anche dissenso ma soprattutto chi è che semina zizzania proprio il nostro matteo claudio santa maria che agisce con questa doppia faccia dimostrandosi amico di christian dimostrandosi amico dei personaggi protagonisti della serie ma al contempo ascoltando attentamente ciò che gli dice la nera quindi laura morante ma effettivamente sarà un angelo il personaggio di laura morante effettivamente bisogna realmente accettare che per fare del bene bisogna prima far del male appunto è caduto dietro di me il povero leonardo di caprio non l'avete visto però io parlo di bene e male e intanto cade il piccolo poster di c'era una volta hollywood la bellezza della diretta stavo comunque dicendovi io mi interrogo e la bellezza di questa serie è proprio che non dia risposte forse vuol proprio far riflettere su quel confine fra bene e male che tutti si può superare e quindi io voglio capire dove la serie andrà a parare suppongo che questa seconda stagione ci possa lasciare con un cliffhanger ad effetto perché già della terza si parla si vocifera di una terza stagione mi piacciono anche tutti quei momenti in cui ritorna giordano de plano il personaggio di lino per me è spaventosamente cattivo sembra una sorta di joker però è un personaggio che ricorda sia il joker sia lo zingaro di marinelli dello chiamavano gigrobodi ma i netti il momento in cui va a uccidere quel padre di famiglia con il bambino lì accanto si vede che sia realmente spietato con davide che sembra si sia dimenticato ciò che inizialmente antonio bannò gli abbia detto matteo e quindi sì sì christian fai cosa vuoi porta avanti il tuo regno però ecco che sul finire della puntata 4 in un momento in cui christian si sente molto lino c'è anche un montaggio alternato con la prima stagione in cui christian si comporta esattamente come lino anche nelle parole che che dice e vediamo che si ripensa al discorso che matteo aveva fatto a davide e quindi lui che dovrebbe essere sul trono a regnare con queste protesi praticamente si alza in piedi e forse non sarà più quel pascioccone pronto a accettare qualsiasi cosa in effetti mentre vedevo la terza puntata ho detto ma passa così in secondo piano questo dialogo fra matteo e davide realmente davide ha già perdonato christian mi sembrava un po tutto affrettato effettivamente mi sembra che ogni cosa abbia il suo senso sul finire della quarta puntata l'ho percepito perché sembra che questa manipolazione di matteo verso gli altri arrivi pian piano è il grande burattinaio che manovra questi burattini queste marionette fino ad arrivare ad un epilogo magari non nella seconda stagione ma già qua senz'altro capiremo forse qualcosa in più perché ci sarà il grande scontro fra bene e male io sono dell'idea che alla fine matteo e christian che inizialmente si scontreranno si uniranno perché capiranno che magari non solo la nera sia un personaggio enigmatico ma soprattutto non buono come si poteva pensare ma che invece il biondo abbiamo puntato il dito verso lui sin da subito possa invece forse nascondere una parte più umana cioè io forse penso ad uno stravolgere le aspettative ad un sovvertirle chi lo sa eppure anche i discorsi del biondo non lasciano pensare a delle situazioni idillia che è perché comunque quando dice a christian che non deve farsi dubbi morali come a dire tu agisci tu fai non lo so è quando si parla di moralità immoralità per me sia il biondo sia la mora sono le due facce della stessa medaglia quindi presumo che per ora si faranno la guerra perché matteo è un po il don pietro savastano della seconda stagione di gomorra però poi matteo e christian potrebbero unirsi quando si renderanno conto che entrambi siano oppressi e schiacciati da due figure che sembrerebbe quasi volessero fare il loro bene ma in realtà non lo stanno facendo magari per niente quindi questo è il mio parere su questa terza e su questa quarta puntata che ho decisamente apprezzato come al solito mi piace il cast non mi aspettavo la morte di stefanuccio ma anche quella è servita eppure matteo sta male soffre ma lo deve fare a voi sono piaciute queste due puntate cosa credete possa accadere nel finale di stagione la prossima settimana con gli ultimi due episodi fatemelo sapere e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao